Un progetto molto importante per l'area del terremoto. Soprattutto perché intervengono queste idee e questo progetto interviene su un'area molto in difficoltà da bolsismo e serve progetti di filiera come questo per riportare occupazione e quindi ricreare la possibilità di tanti giovani a ritornare nei territori. È un progetto importante perché peraltro si inserisce nel discorso dell'economia circolare e quindi credo che debba essere valorizzato al meglio come la Regione sta facendo. Voglio ringraziare tutti gli antipromotori perché hanno messo in campo un'idea progettuale che adesso va concretizzata molto importante non solo per quei territori ma per tutte le aree interne della Regione Marche.